Questo ben godi, benvenuti, la nostra trasmissione nella quale mettiamo in evidenza il bello e il buono della nostra Toscana. Lo studio ricchissimo con degli ospiti che vi stiamo per mostrare, sono veramente, direi preparati, sono il meglio che potrebbe essere presentato e proposto dalle manifestazioni storiche, agli eventi, al cibo e poi anche all'artigianato di grande livello artistico con i costumi che si rifanno ad epoche e a sogno anche del mondo teatrale. Andiamo però a cominciare subito, avremo anche collegamenti con Roberto Francini, andiamo alle Chianti. Giovanni Montorselli, uno più alto di me, è difficile da trovare, tu ci sei però. Sempre riuscito. Sempre riuscito. Giovanni Montorselli, domenica prossima, il prossimo fine settimana, vediamo inquadrato il vino perché c'è un grande evento nel Chianti e sarà la scusa per... A Gaiola in Chianti c'è l'eroica. L'eroica, partiamo con le immagini, carissimo regista Natale Teci, perché l'eroica è un evento, guardate qui a che livello siamo. Che cos'è l'eroica? L'eroica è stata un'idea nata per caso di fare un raduno di biciclette di una certa epoca, antecedente a 1987, possibilmente anche con i vestiti dell'epoca. E da lì ha preso subito in piedi, ha avuto un grandissimo successo e ora sono lì a contare perché più di 10.000 persone arrivano a Gaiola per correre questa eroica che sono tre percorsi, uno medio, uno corto e uno lungo. E si vestono anche con biciclette degli anni 30, quindi si possono vedere benissimo personaggi. Le strade sterrate del Chianti. Tutto, maggioranza strade sterrate, nel Sienese ce n'è molte strade sterrate, per cui si ripete una cosa che è esistita fino agli anni 50, poi dopo gli anni 50 sono arrivate le cose più moderne. Ecco, mi hanno fatto vedere dalla regia anche i campi dove si corre l'eroica, perché alla fine l'eroica ha questo successo mondiale perché il Chianti. E il Chianti festeggia proprio... Il 24 di settembre scorso hanno festeggiato, si sono festeggiati 300 anni della denominazione di origine Chianti perché il Cosimo III dei Medici, primo nel mondo, ci scrisse i territori dove veniva prodotto degli ottimi vini, era il Chianti, il Pomino, il Valdanno di sopra che è questo sopra a noi da queste parti e il Carmignano. Allora sono le quattro vini, guarda là le vigne, allora pensate, una manifestazione dove si usano le biciclette storiche, un progetto dove c'è collegamento ma è il territorio che la fa da padrone, cioè è la scusa, perché probabilmente un altro evento del genere in un'altra zona non tirerebbe dal mondo. No, perché poi questi signori si fermano anche, hanno le tappe dove possono bere il vino e mangiare degli ottimi salumi. Che spettura non hai fatto a Giovanni questa? No, no, io l'ho vista ma non l'ho fatto. Giovanni, i quattro vini sono questi? I quattro vini sono questi, dove alle spalle di questi vini c'è Cosimo III dei Medici che ebbe quest'idea della valorizzazione delle zone di produzione migliori del suo granducato e a capo di questa congregazione c'è Antonio Antinori che era dell'ordine dei vinattieri, che è una famiglia che ormai siamo arrivati alla ventisesima generazione con Piero Antinori. Ecco, ci siamo, siamo di fronte a qualcosa che è una grande radice. È una grande radice e unica al mondo. Poi tornevo alla prima, la prima direi il sistema del terroirio. È la prima volta che è del terroirio. Anche prima dei francesi. Prima dei francesi. Cioè perché fanno i fenomeni francesi. Di circa 60 anni prima. Brod. Allora. 1 a 0 per l'Italia grazie all'Antinori e a Cosimo III. Terzo, chiaro, 300 anni ragazzi. C'è però, allora io salto sul concetto dell'elemento, c'è questa donna che ha il collo, sei coperta dalla... Così, allora vi vediamo. Allora, c'ha il collo un centimetro. Un metro. Un metro, questo è un metro. Un metro. Saresti tu che col... Che lavoro fai, scusa tu? Allora, io faccio la costumista teatrale e mi occupo anche però della realizzazione. Allora, con Fartigianato Imprese proponiamo sempre idee che siano anche per mostrare ai giovani come si può interpretare il lavoro. Tu, quindi, come storia, e abbiamo delle immagini d'appoggio, fai i costumi storici e teatrali. E fantasy anche, e cosplay nel caso. E che tiri fai? Proprio a rigore scientifico, storico? No, io mi appoggio sempre su una base storica e cerco di rielaborarla su qualcosa di più creativo per renderlo fantasy. Ha la necessità, si può anche fare qualcosa di strettamente storico che comunque... Ma tu com'è che ho cominciato questo lavoro? Io per passione, non sapevo fare niente. No, sul serio, dillo. Ho studiato niente. Dammi il primo piano che ce lo dice questa che ha detto. Poi, ho studiato animazione, quindi so disegnare. Sono partita da lì, poi mi sono trovata nella situazione in cui avevo la necessità di creare dei vestiti e facendo un po' di prove che non sono venute benissimo all'inizio, a forza di batterci la testa sono riuscita a... Scusa, questa attività artigianale dà reddito? Cioè, tu sei un'azienda, non sei una appassionata che fai costumi. No, no, sono un'azienda. Ecco, e in genere, chi è che richiede abiti così? A parte, deduco per manifestazioni storiche, non ho dubbi, no? Sì. Però c'è il fantasy che lo compra, scusa. I giocatori di ruola dal vivo. Oh, madonna, non la voglio sapere. Racconta un po', che ci sente che... C'è tipo Bulletti, il mio, Marini, uno dei mie, loro si vestono e fanno il ruolo del capitano. Sì, perfetti. Allora... Se volete un costume, anche voi, ragazzi, da che vi vestiresti nel fantasy? Che vorresti essere? Lui Zorro e lui? Capitano fracassi. Ah, sono due costumi un po'... Zorro, fantasy, c'è nel fantasy? Il fantasy, oddio, per quanto è storico Zorro, in realtà. Zorro, ok, va bene, Zorro. Non è così. Però raccontami. Quindi, c'è però l'elemento del ricamo, io vedevo anche qua gli abiti e le foto stesse che stiamo dando. Io ho dei collaboratori esterni che mi fanno i ricami e mi lavorano il cuoio, quindi collaboriamo su questa cosa qui. Lo studio, in realtà, è molto, perché quando uno mi propone un personaggio che 99 su 100 si è inventato, si basa su una base storica, e poi magari ci aggiunge, però il mio personaggio deve sembrare un mago che vive nel 1700, quindi lì io entro in gioco per costruire l'abito adatto. Cioè, ma da lavorare nessuno tempo, no? Cioè, tutte queste cose, fra i telefonini, i giochi di ruolo, capisco, ora sto scherzandoci, però bellissimo il lavoro. Mi fai vedere, qual è dei tre un fantasy di questo? Sono, in realtà, sono tutti i fantasy. Tutti, vieni in paio, dopo chiediamo anche degli altri. Allora, raccontami un po'. Il suo abito è ispirato all'Europa dell'Est. All'Europa dell'Est, da che lo capisco, scusa, secondo te? Dalla fantasia dei ricami e dal taglio della tunica e dalle decorazioni. Questo che sarebbe al collo? Allora, lei è una strega, in realtà. Ok. Quindi, al collo ha un ciondolo che le imprende il potere e lo tiene sempre con sé. Ma questo è vestito il tuo? Sì, mi ho commissionato a stare da stare da stare da stare. E perché da strega, scusa se te lo chiedo? Perché? Perché di norma sono un tecnico di radiologia, quindi per spaziare su qualcosa di diverso. Complimenti. Guarda, è un'idea che non è carnevale, non c'entra niente. No, no, assolutamente no. Ci sono degli eventi organizzati dall'associazione, dove loro partecipano, che è a Terre degli Angeli, che è qui a Retina, che fanno degli eventi... Cioè, a Renzo c'è anche un'associazione del genere. Sì. Non ci si fa manca niente. Niente, niente. Mannaggia la tua pazienza. Gli organizzatori scrivono una storia e noi partecipiamo come protagonisti. E quindi abbiamo ognuno il suo vestito, il suo personaggio. Quindi tu sei un radiologo professionale. Sì che sì. Sì, e hai questo abito bellissimo e ti sei rifatta che strega? No, è un contesto inventato da noi, un'ambientazione che abbiamo pensato quest'anno, nella quale giocheremo per i prossimi quattro anni. E scusami, quando giocate, scusa se lo chiedo, sono ignorante, io sono un po' di una zolla, insomma. Che fate quando giocate? Allora, noi siamo un gruppo di organizzatori, con i quali si interfacciano un gruppo di personaggi giocanti. Questi personaggi giocanti hanno una storia, un ruolo che si inventano loro. Ah, ok. Noi mettiamo in scena una storia e loro reagiscono come credono. È un film dal vivo, sì. Dal vivo, bellissimo. E tutti i costumi che li fa a lei. È buona parte, sì. Ma i capelli te li sei fatti, quelli belli, te li sei fatti perché eri dove venire in televisione? No, in genere lavoro parecchio meno elegante, sì. Mi ricordi, Atelier si chiama il tuo? Stardast Atelier. Sei di Arezzo, fra l'altro? Io sono di Lucca. Di Lucca, ma... Però sono stata adottata ormai... Qui ad Arezzo. Sei allo Stardast, complimenti. Confarticiato mi avete scelto una cosa pazzesca. Allora, io adesso, dalla storia, andiamo... Shadi, tu sei ingombrante. Dopo faccio parlare a te, però... Ciao Giovanni. Qua in fondo noi andiamo a Massa, lungo il mare. Massa Carrara. Luigi Badiali, presidente. Allora, e anche qui rientra sul concetto Ben Godi, cioè il concetto delle emozioni e del valore storico che si recupera, diventa turismo, diventa esso stesso motore dell'economia, perché credo, no, Giovanni? Certo. Senti, il discorso delle rivocazioni storiche che io ho scoperto anche un po' in modo recente, diciamo, sono presidente da cinque anni dell'associazione, è affascinante perché ti fa vedere tutto da un'altra angolazione. Allora, guarda, noi abbiamo le immagini che abbiamo un po' per capire cos'è questa massa, prima di tutto dall'alto, dal drone, dove voi, se non sbaglio, è la prossima, cioè la data in genere è la prima settimana di ottobre, però per motivi climatici può darsi... Può darsi che si dite al nome, sì. Ecco, questo cos'è, il vostro castello? Questo è la più grande fortezza della Toscana, il castello Malaspina di Massa. Ma, che spettacolo! Quindi vale la pena andare a Massa a vedere questo? Sì, questa è la cattedrale di Massa. La vostra cattedrale. Poi c'è un importante... Dove abbiamo fatto sabato sera l'investitura dei Cavalieri, questo è il palazzo ducale di Cibo. Scusate, capite di che ragioniamo, questi siamo in epoca... Diciamo dal 1557 in poi perché la residenza del castello del Marchese, poi Principe, poi Duca, va praticamente in questo palazzo prestigioso che viene ampliato e arricchito nel Serbio. Ecco, che cosa consiste questa giostra? Della quintana Cibea, che viene da Cibo, Alberico Cibo Malaspina, perché in Malaspina la Ricciarda si imparenta con il Cibo di Genova e lui è un grande, viene appunto definito Alberico Primo Cibo Malaspina il grande, perché campa a 94 anni, governa a 70 anni e ricostruisce di fatto, apre le prospettive a Massa e a Carrara. Perché erano due grandi borghi, Carrara ha anche un po' di mura, però lui le allarga, i medievali, lui le allarga e soprattutto Massa la fa diventare una città. Quindi chiama l'architetto che ha realizzato le mura di Lucca, che gli progetta le mura e le realizza, ma soprattutto rilancia il marmo, fa le bonifiche, rilancia l'agricoltura, va a prendere gli ebrei a Livorno e mette su commercio. Mi fai evidenziare questo, in pratica l'evento della giostra serve anche per i ragazzi, per ricordare una figura e per capire come il passato ci può servire per andare... Certo, noi partiamo da questo presupposto, che chi conosce la storia vive meglio il presente e il futuro, quindi questo mi pare... Qui vedevo le ceramiche importanti... Sono ceramiche fatte con un premio che viene fatto durante la quintana e quindi poi le ceramiche rimangono nel museo nostro. Bellissimo, raccontami una cosa, vuoi è la prima fine settimana di ottobre in genere, però a seconda del tempo... Abitualmente noi la facevamo il primo sabato di agosto, poi per vari motivi abbiamo spostato adesso in ottobre, quindi la facciamo diciamo la prima domenica oppure il quattro... E poi arrivano da diverse parti della Toscana a vedere la vostra, perché in costume rigore storico sugli abiti... Rigore storico sugli abiti, poi anche il modo con cui si fa la quintana è rimasta l'unica, con la gualdrappa, il mantello... E infatti ci sono, guarda, vedi, quelli che vedete sono i vari loro, come li chiamate, giostratori... Cavalieri, cavalieri giostranti, sì... Cavalieri giostranti hanno gualdrappe, mantello e un paio di foto dopo li vedremo... E c'è anche l'elmo... E c'è anche l'elmo... Con visuale ridotto, quindi sostanzialmente non è pericolosa questa giostra... Eccola là, guarda, guarda che spettacolo... E la giostra praticamente viene corsa in una pista, un cavaliere alla volta e combattono contro il tempo e contro gli anelli... Chi va più piano prende più anelli, chi va più veloce perde più anelli... Cioè, ma è una cosa tecnica in questo caso, però... Gli anelli si stringono da 12 a 9 a... Certo, è normale, questo è vero, ecco, vedete, è l'unica giostra, credo, che si fa... Ancora così... Con la bardatura totale del cavaliere, cosa che in genere non avviene quasi mai... Ormai tutte le giostre sono state un po'... Benissimo, guardi che lavoro, bravi, complimenti... Sì, molto bene... Complimenti Presidente... Ed è stata corsa per la prima volta quando Alberico Cibo Malaspina ha posato la prima pietra delle mura di massa... Mille? 1557, 10 di giugno... Capite? Di Carrara, 10 maggio... Quindi lui ha fatto veramente cose bellissime, poi ha ricostruito le città, palazzi... Allora, dopo aver parlato di questo argomento della giostra, ci sono anche le tematiche legate... Ben godi anche il cibo, tu sei perfetto boccaccio, nel senso... Io sono un cinghialotto vestito da cuoco... Cinghialotto, l'ha detto lui, non bisognerà mai di dirlo... L'ho anticipato... A parte avere il cibo qua davanti, il concetto della Toscana, Ben Godi, nel tuo caso fondamentale è anche l'importanza della formazione, Shadi... Cioè tu di lavoro, a parte fare lo chef per il tuo lab, sei anche in giro per l'Italia a fare formazione... Raccontami, in questo momento il cibo, così intanto ci vediamo un po' di piatti, la formazione come sta? È vero che c'è richiesta in questo settore per nuovi lavori? Sia a livello tecnico, sia a livello passionale, diciamo, quindi sia agli appassionati di cucina... Quindi è ricercato sia una parte più ludica, sia una parte più tecnica... Ovviamente la base deve essere sempre qualcosa di tradizionale e di conosciuto, quindi partendo sempre da idee, da conoscenze, dalla storia, dalla geografia di un posto... Si inizia a costruire qualcosa, come in questo caso qui tutti i prodotti di origine locali, per andare a formare. E i ragazzi, che sembra che non siano interessati, sono quasi più interessati alle idee che stanno dietro al piatto che alla manualità vera e propria. L'unico modo però... Scusami, tu insegni anche nelle scuole alberghiere e hai visto che c'è reattività da parte dei ragazzi, non c'è reattività? Molto, molto, perché secondo me, dopo tutte queste passaggi in televisione che sono state in questi anni per far vedere il cibo, per far conoscere i piatti belli, i ragazzi soprattutto degli alberghieri, ma non solo, anche di accademie private o anche appassionati in genere, sono interessati a capire come mai viene fatto una zuppa di ceci... Per esempio, facciamo la zuppa di ceci qui. Al ragazzo, cioè se tu devi insegnare questo tipo di preparazione, qual è l'elemento sul quale punti di più l'attenzione? Allora, bisogna stare attenti all'addensamento degli amidi, presenti sia nella pasta che nei fagioli, quindi bisogna stare attenti all'equilibrio di quanto liquido in base alle cotture, perché non tutti sanno che a una certa temperatura gli amidi gelificano, quindi si addensa. Saperlo ovviamente ti permette di fare un piatto come questo, banalissimo, perché banale, non diciamo banale, ci vuole sicuramente anche per fare una pasta di fagioli come questa. Scusa, ma invece se devo qua davanti fare... Questo è un crostino nero e ovviamente come si sa viene fatto normalmente... Scusate, no ragazzi, crostini neri, voi due, uè, boss, siete riattivi i miei due tecnici, sì. Crostino nero, guarda che robetta, crostino nero cosa c'è l'attenzione? Normalmente viene fatto con prodotti legati ai fegatini di pollo, eccetera, eccetera, in questo caso è un grigio del casentino, quindi conoscenza della materia prima e lavorazione, perché ovviamente il fegato del maiale è più dolce, quindi va equilibrato. Quanto conta secondo te fra il sapere e il fare? Ci deve essere un equilibrio fra le due cose? Parli con uno che sicuramente il sapere è al 90%, il 10% è il fare, perché ovviamente sapendo si può fare. Il contrario non è sempre così, cioè si può fare tante cose ma è una cosa casuale. È la differenza tra un cuoco e, come dico io, è uno sporca pentole. Ecco, e quindi l'imparare, l'elemento anche del passare certe connotazioni anche di carattere culturale legate al cibo, a parte l'elemento stesso storico, ma c'è anche come il calore influenza il cibo. Come no, come no, quindi la parte gustativa, quindi assaggiare un prodotto, che ne so, partire da un cecio, sentire com'è quando è fresco, quando viene rigenerato, quando viene cotto, per sentire i sapori che vengono in bocca è importante. E quanti sono oggi, secondo te, coloro che vanno al ristorante, mangiano e hanno consapevolezza? Stanno aumentando, fortunatamente. Bene, bene. Perché ovviamente se imposto un locale in una certa maniera, quindi non è il locale da buffata, perché esistono anche quelli lì e funzionano forse anche meglio di tanti altri, ma nei ristoranti normalmente scelti per andare a mangiare bene, la consapevolezza c'è di quello che ci si mette in bocca ed è importante. Allora, aspetta che ora, dopo torniamo, volevo dire a Giovanni, fra l'altro sto vedendo, giusto per curiosità, dopo ne parleremo anche nel collegamento, perché saremo con il Parco delle Foreste Casentinesi. Giovanni, i piatti, i chianti, ricordiamolo, 300 anni. Sono 300 anni dal 24 settembre 1716, 24 settembre 2016. Vedi, questi tre sono tre personaggi che ora vi diciamo solo i nomi. Partiamo da questo, una parola. Antonio Antinori, che è stato il capo della congregazione che ha disegnato 1712, 1716. Accanto un altro uomo che influenzò molto? Bettino Ricaso, nel 1872, quando scrisse la ricetta del Chianti con le uve bianche e senza uve bianche. E poi il terzo personaggio è Giacomo Takis, che purtroppo è deceduto quest'anno e che è stato l'innovatore di tutti i vini di oggi, dal Sassicaia, Tignanello e via dicendo, che sono tutti i vini più moderni di oggi, dove lui ha applicato di fare il vino nella vigna e non più in cantina. Una curiosità, scusami, perché secondo te il Chianti mi dà i tre valori che piacciono alla gente e dopo chiuderemo questa striscia. Ma il Chianti prima cosa è cultura. Cultura. E con la cultura si può avvicinare benissimo al vino. Vai, poi. Capirlo, perché è un vino molto difficile, però i piatti che il cuoco qui accanto ci ha, sono tutti piatti da Chianti classico, uno fila l'altro. E quindi la terza è il piacere di bere, tant'è che oggi di vino se ne consuma poco più di 30 litri l'anno a procapite, quando al tempo del Cosimo Terzo e Medici si era sui 200 chili. Prima era alimento, oggi è condivisione. Prima era alimento, oggi è un piacere di bere, non è alimento. Tre personaggi, breve pausa, poi torniamo con Ben Godi.